Sull'aumento dell'IRAP per ripianare il bilancio della sanità, l'opposizione di centrodestra non molla la presa e continua ad attaccare la giunta regionale e il centrosinistra, sotto accusa in particolare le scelte dell'assessore al bilancio Raffaele Paci. Sulla vicenda interviene Pietro Pitalis, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. L'assessore Paci alza la voce perché tenta di coprire i propri errori, sottolinea l'esponente azzurro, mentre il centrodestra ha sempre dato copertura alla spesa sanitaria, Paci ha ridotto gli stanziamenti per la sanità. Secondo Pitalis, Pigliaro preferisce tassare i sardi per coprire le gravissime responsabilità dell'assessore e quindi anche le sue. Se il centrodestra avesse fatto ciò che sostengono i professori, la regione sarebbe stata commisariata e invece, come noto, ciò non è mai avvenuto. Per l'esponente azzurro, sarà invece l'assessore Paci a dover chiedere a Roma un piano di rientro. Per Forza Italia, la giunta continua il danoso gioco al rilancio e pur di nascondere il proprio fallimento preferisce tassare i sardi. Pigliaro, ha concluso Pitalis, ritenga pure sulla sua scrivania la proposta ricevibile di aumentare l'IRAP per la seconda volta e l'IRPEF, e scriva invece la refoca dell'incarico all'assessore Paci.